bella a tutti i miei slime qui al bentornati nel mio canale come ogni giovedì siamo tornati con il video sulle uscite settimanali ma proprio di questo vi volevo parlare infatti prima di cominciare volevo farvi un discorso ahimè ho notato che questa serie con il passare del tempo di video in video sta perdendo sempre views di questo ovviamente non ve ne faccio una colpa perché ci sa che un video vada meglio di un altro ho notato anche che gli artisti in quest'ultimo periodo più che mai stanno annunciando uscite subito dopo rinviandole e allora ogni tanto si crea secondo me in questi video anche un po di disinformazione perché magari un ragazzo che segue me vede il video dice mo che bello oggi esce l'album di 6ix9ine e poi non esce e dice ma mi sei prendo il culo e tu vai la sfegata no frate guarda che non dipende da me quindi ho pensato una cosa o non continuo questa rubrica per un semplice motivo penso che l'obiettivo di ogni canale che sia di due iscritti o un miliardo e mezzo sia sempre quello di far arrivare i propri video a più persone possibili ergo se io so che con il stesso tempo che impiego a editare questo video posso crearne un altro più interessante con un contenuto più bello che piaccia più persone perché no l'opzione 2 sarebbe quella di modificare la serie in che senso al posto del giovedì io pubblicherei il video il lunedì perché il weekend passa quindi album e i progetti che devono uscire escono se devono droppare droppano se vengono annullati vengono annullati io nel weekend ho modo di ascoltare tutto e poi capire un po le uscite che mi sono piaciute di più e quelle che mi sono piaciute di meno il concept della serie in poche parole cambierebbe dalle uscite che non puoi perderti questa settimana alle migliori uscite di questa settimana devo ancora lavorare sul titolo in questo modo 1 non si crea più disinformazione album che devono uscire poi non escono eccetera eccetera 2 io tutto il weekend per ascoltare i progetti quindi sicuramente posso dirvi qualcosa in più posso darvi anche qualche parere mio personale è in più ho pensato anche che magari se c'è qualche settimana morta come giusto che sia perché non ogni venerdì possono droppare 20 album magari metti che in quel weekend io mi riscopro un album vecchio mi piace faccio ragazzi comunque in questo fine settimana mi sono anche pompato questo e ve lo consiglio in caso in cui non lo conoscesse quindi fatemi sapere se l'idea vi può interessare cosa fareste voi lascereste la serie così com'è oppure la cambiereste in questa maniera per favore scrivetemelo in un commento io l'ho detto appositamente in un video perché so che chi sta vedendo questo video è effettivamente interessato alla serie fatto questo discorso possiamo andare ad analizzare le uscite di questa settimana partirei da quelle italiane il primo progetto di cui vi volevo parlare è un single sto parlando di beach di joe scacchi fit rosa chemical ora questa coppia è un po' ambigua perché non me la sarei aspettato onestamente joe scacchi in caso in cui non lo conosceste è un membro del wing clown un duo formato appunto da lui e tommy toxic a mio parere uno tra i gruppi più interessanti del rap italiano secondo me può essere definito un emergente perché ha acquistato tantissima visibilità nel 2019 rispetto agli anni passati però non è ancora un nome diciamo caldo io spero che lo diventi presto è uno dei pochi artisti che effettivamente mi piace tanto nella scena rap italiana al contrario rosa onestamente non mi fa impazzire l'ultimo album come vi avevo già detto non l'ho ascoltato e non penso che lo farò perché nulla mi spinge a farlo vedremo cosa ne uscirà da questa traccia la produzione è stata affidata a molebole neck ninja colgo l'occasione per dirvi anche che tra venerdì e sabato vedo un po' quando riesco a prepararla uscirà la reaction al pezzo perché io onestamente ho hype per joe spero che rosa non mi rovini la sorpresa però sono abbastanza positivo bianco come a cortina 27 muoio in cucina la mia bambina vuole fare un bambino sono in strada 23 anche un'ora ho dormito sto al settimo giri al dodicesimo chilo non ho tempo da perdere i costi ragazzini no se stavo in cucina ero heinzbach giocava a calcio rote passiamo alle uscite americane smoke parp sembra essere pronta a droppare il suo tanto atteso progetto florida jit pensate che ha annunciato questo album pochi giorni barra settimane dopo dead star 2 quindi è passato un bel po' di tempo doveva uscire due settimane fa ma ciò non è stato possibile perché in america è successa la vicenda di george floyd e le conseguenti rivolte quindi non era cosa io onestamente ho hype perché vi dirò dead star 2 nonostante sia un album che si è preso un sacco di critiche a me sotto sotto è piaciuto anche se non me l'ascolto più onestamente però ho trovato qualcosa di positivo soprattutto smoke parp era uno che nel 2017 spaccava tantissimo pensate che io all'inizio quando l'ho scoperto con l'heel pump lo ritenevo più forte dell'heel pump stesso purtroppo con gli anni si è un po' perso dead star 1 rimane il suo miglior progetto senza ombra di dubbio e secondo me è uno degli album più interessanti rilasciati negli ultimi anni quindi in caso in cui non lo conoscesse se volesse approfondire smoke parp io vi consiglio assolutamente di recuperarlo florida g tuttavia dovrebbe essere totalmente prodotto da ronny j e smoke parp l'ha annunciato come il suo miglior progetto di sempre quindi boh spero di sì questa cosa non mi convince perché quando i rapper americani se ne escono con queste uscite ogni tanto sento un po' pussa di merda onestamente però staremo a vedere il secondo progetto di cui vi voglio parlare probabilmente quello per cui ho più hype è una deluxe edition e sto parlando della deluxe di the life of pierre 4 di pierre borne ho particolarmente hype perché l'album originale mi è piaciuto tantissimo è uscito nel 2019 e rientra nella mia top 10 personale degli album di quell'anno la deluxe ha annunciato che sarà composta da 15 tracci inedite quindi anche lui segue il trend di l'illusivert come accennavo nel video reaction della seconda parte del tape di tedua ovvero quello di pubblicare un album e subito dopo anche se in questo caso è passato un anno una deluxe edition ma che è praticamente un secondo album se ne avete sentito parlare di lui molto probabilmente perché è il producer di karty e come producer è uno dei migliori nella scena rap americana e anche come rapper devo dire che non mi dispiace secondo me abbastanza underrated l'anno scorso ha droppato un bell'album che purtroppo non ha avuto le attenzioni che si meritava questo album in un certo senso ti butta nel viaggio di pierre molto chill, molto wavy e secondo me è un album perfetto da ascoltare quando ti vuoi rilassare un po' il disco originale è composto da 16 tracce e non c'è nessun feat chissà se in questa deluxe edition ci sarà qualche feat, magari qualche pezzo con karty sarei super curioso anche perché hanno un sacco di inediti fortissimi comunque sia staremo a vedere l'ultimo progetto di cui vi volevo parlare è un'altra deluxe edition sto parlando della deluxe di artist 2.0 di iboogie with the hoodie ora non mi va di che pare quindi vi dico molto onestamente che io l'album originale non l'ho ancora ascoltato perché onestamente non ho mai avuto la curiosità di vedere effettivamente come sia anzi chiedo a voi se l'avete ascoltato, se vi è piaciuto se secondo voi vale la pena recuperarlo diciamo che lui è un artista che preferisco in alcuni feat e in alcune tracce singole quando vado ad ascoltare un suo album nel complesso alla lunga mi stanca dopo già 4-5 tracce sento il bisogno di cambiare non so perché molto probabilmente è un problema mio è già uscito un estratto da questa deluxe una traccia chiamata bleed la cosa interessante di questa traccia è che lui ha dichiarato che avrebbe voluto inserire pop smoke però purtroppo non ha avuto neanche la possibilità di chiederlo perché poi ahimè è morto i due avevano già collaborato comunque nell'album di pop mid who 2 nella traccia foreigner che secondo me è una di quelle un po' più underrate ma anche di quelle che merita di più perché pop lì è micidiale e a boogie personalmente mi è piaciuto pure bene ragazzi queste sono le uscite che ho selezionato per questa settimana scrivetemi nei commenti i progetti per il quale avete più hype vi ricordo anche di darmi un'opinione sul discorso che ho fatto a inizio video perché è importante per me sapere voi come la pensate iscrivetevi al canale nel caso in cui non lo foste e condividete questo video con i vostri amici per farli rimanere aggiornati sulle uscite noi ci vediamo con un prossimo video bella